Buonasera a tutti e buon mercoledì sera. Benvenuti al nostro appuntamento del centro della settimana, un appuntamento che si rinnova ogni settimana da qualche anno a questa parte e che mette in luce diversi argomenti o comunque ci sensibilizza nell'affrontare queste tematiche quotidiane. Allora, quello di cui parliamo questa sera è questo upgrade, chiamiamolo così, del codice della strada, con multe che si attestano a 4.000 euro per gli eccessi di velocità fino a una certa caratura naturalmente, no? Cioè parliamo di 40 km orari o 40-60 km orari oltre il limite, oppure di vieto di sosta da 800 euro. Allora, che cosa vogliamo dire di queste, di questa nuova legge, diciamo, che è già in atto, in corso d'atto, quindi saranno attive fino dal mese di dicembre. Non saranno retroattive, quindi ciò che è già avvenuto adotterà le sanzioni del vecchio ordinamento, mentre invece ne faranno le spese gli utenti automobilistici nel nuovo regime, chiamiamolo proprio regime della strada. Allora, qui siamo di fronte ad una vera e propria, è come minare il territorio, il campo su cui si muove l'automobilista. Ora, rimane chiaro che andare in giro ubriachi o sotto l'effetto di sostanze è chiaramente un fatto molto grave. Però, d'altro canto, chi fa eccesso di questi stupefacenti o comunque di sostanze che alterano la coscienza non sta naturalmente bene o comunque non sta vivendo una soluzione, una situazione agevole. Quindi massacrarlo con un eccesso di velocità o comunque sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non è una misura correttiva. Sì, va bene la sospensione della patente, tutto quello che vuoi, però ci dovrebbero essere delle azioni, secondo me, alla radice che vogliono curare determinate situazioni. È chiaro che se tu fai vivere in uno stato delle persone in grave disagio, questi poi vanno ad affidarsi a sostanze stupefacenti, all'alcol, eccetera, eccetera. Poi, guarda caso, l'auto è un mezzo di movimento, è chiaro che tu metti nelle condizioni lo stato di fare cassa, perché da una parte fai ammalare le persone di gravi malattie di disagio, dovute al disagio, e dall'altra però le punisci perché lo hanno fatto. Quindi diciamo che sono due pesi e due misure, non è correlata la cosa. Vabbè, ma al di là delle sostanze stupefacenti che hanno una valenza, quindi è giusto, sì, la sospensione fino a tre anni, d'accordo, ma io avrei fatto un altro tipo di approccio a questo disagio sociale. Però vabbè, lasciamolo da parte, perché non spetta a noi sicuramente fare questo tipo di analisi. Superamento della velocità di 40 km orari, fino a 4.000 euro. Le famiglie italiane comunque, cioè a parte che è facilissimo superare i 40 km orari, pensate in autostrada 130-170, già lì sarebbero 4.000 euro. Ora, io vedo sfrecciare auto in autostrada, io solitamente vado addirittura a 90-100 km all'ora, mi metto sulla corsia di destra e mi faccio il viaggio che devo fare, tanto non vado a lavorare in auto, quindi quella volta che utilizzo l'auto vuol dire che la sto utilizzando nel periodo estivo o invernale per andare in qualche luogo di vacanza. Allora, il problema è che 4.000 euro su una famiglia di lavoratori incide parecchio e praticamente alla fine queste famiglie non vogliono più, cioè farebbero praticamente un prestito, dovrebbero chiedere un prestito per poter pagare un'ammenda così salata. Ma si risolve veramente il problema oppure si crea ancora più disagio. Non lo so, secondo me vista così sembra più una condizione di mettere a piedi le persone perché uno con un po' di sale in zucca dice beh sai che c'è che io l'auto la vendo e da ora in poi utilizzo i mezzi pubblici o la bicicletta per andarmene a lavorare. E sapete io cosa faccio? Faccio così da dieci anni. Quindi lo so che è difficile pensare che magari perché io abito a Milano e quindi è più facile utilizzare i mezzi pubblici e la bicicletta, però d'altro canto ho abitato anche altre città e ho fatto la stessa cosa. Quindi non è... cioè quello che voglio dire io è che se lo Stato ti mette in una condizione di disagio tu non puoi accettare questa situazione e dire va bene però starò comunque più attento, io non supererò i limiti perché non è così semplice non farlo. Io mi sono ritrovato a portare l'auto per la revisione. Allora cosa è successo? Ho passato un incrocio e non ho visto il semaforo, ma sapevo che c'era il semaforo, ma guardavo a vista all'orizzonte e non l'ho notato. Poi avendo gli occhiali comunque con la montatura pronunciata e non andavo neanche veloce perché sarò stato sui 30-40 all'ora massimo. Invece il semaforo era in cima, era proprio in alto con telecamera. Fatto sta che in quel momento, mentre sono passato, era ancora verde ed è scattato l'arancione. Ora il segnale di arancione è un segnale che ti dice ti devi fermare, però se stai già attraversando l'incrocio non ti puoi fermare perché la tua azione sarebbe comunque pericolosa per gli altri utenti automobilisti. Ma se il semaforo fosse diventato rosso invece sarebbe stato un problema. Quindi pensate a queste ammende. Quindi è lo Stato a voler fare cassa. Quindi non è che per una distrazione prendi un'ammenda perché devi stare più attento. No, qui è veramente fare cassa a spese degli italiani. E questo non è giusto. Non è giusto perché l'italiano vive già una situazione di forte disagio. Si fa fatica ad andare a fine mese, si fa fatica a sostenere i costi per il sostentamento delle famiglie. Quindi è una situazione di ulteriore disagio. Ora io non dico che tutti debbano andare a piedi o in bicicletta per andare al lavoro perché ci sono zone in cui non lo puoi fare. Zone dove non ci sono mezzi pubblici. Ci sono zone dove le persone abitano in campagna e si devono recare in città e magari non possono nemmeno prendere la bicicletta per muoversi da casa perché la strada è infangata. Quindi se ti devi recare in un ufficio a lavorare non è che puoi fare la strada con gli stivali coperti di fango e poi metterti le scarpe eleganti. Siamo nel 2024 al ridosso al 2025, non siamo negli anni 50. Quindi questa situazione di forte disagio non può essere vista e presa così e basta. Cioè dicendo ah va bene, no bisogna prendere delle misure, bisogna far sì che si utilizzi comunque meno la macchina, si utilizzino meno questi mezzi che ci fanno perdere, che ci dissanguano. Ma io lo dico da tanti anni questa solfa, lo dico da moltissimo tempo. L'auto è un indice di impoverimento, vi fa impoverire. Un conto è utilizzarla una volta all'anno, ci paghi l'assicurazione, d'accordo, ma chi se ne frega voglio dire. Tu non hai costi di esercizio sulla strada, non paghi la benzina perché non la usi, non sei a rischio di ammenda perché non la usi, però se ti vuoi fare un giro lo puoi fare. Certo, devi stare molto attento perché comunque sei soggetto a queste ammende, a questa tipologia di situazione. Fatto sta che lo Stato non ci sta venendo incontro perché comunque i milioni di utenti automobilisti messi in questa condizione si ritroveranno molto spesso con meno punti sulla patente, a pagare delle ammende salatissime e lo Stato fa cassa. Ma poi lo Stato di questi soldi che cosa ne fa? Io non vorrei che fossero volti a finanziare qualcos'altro, no? Però noi abbiamo problemi con l'Inps, se sono volti a finanziare l'Inps è un conto, la sanità è un conto, se sono volti a finanziare delle guerre, no. Quindi in qualche modo siamo noi cittadini che diamo la possibilità allo Stato di farci prendere il denaro. Lo fanno già con i cedolini perché abbiamo delle imposte IRPEF altissime. Lo fanno già con le sigarette, lo fanno già con la benzina, lo fanno già con l'alcol, lo fanno con le accise, con la benzina e adesso anche sulla circolazione. Quindi sta diventando un paese piuttosto invivibile. Bisogna fare qualcosa, bisogna circoscrivere tutte queste aree in cui lo Stato prelieva del denaro al cittadino e non utilizzarle più, il meno possibile, il meno possibile. E solo così si dà una risposta negativa perché altrimenti ci ritroveremo a prendere queste multe e a pagarle poi. Poi 800 euro per un divieto di sosta non lo so quanto si possa essere disposti a pagare qualcosa del genere. Capite che dobbiamo fare qualcosa. Si capisce chiaramente che è un segnale in cui si sta arrivando al capolinea della pazienza del cittadino. Quindi fate qualcosa. Fate qualcosa nel senso che io la sto facendo. Io la macchina non la uso. Non la uso. Mettetevi nella condizione di non utilizzare, di non accettare questo fatto. Non è facile, però bisogna fare qualcosa. L'unico modo è togliere la possibilità di agire nei vostri confronti. Non c'è altra soluzione. Io vi auguro buona serata. Spero che questo argomento vi possa, questo video vi possa dare qualche spunto. Anche se è polemico perché io ogni tanto li leggo i messaggi polemici. Però comunque li recepite in ogni caso. Un conto è non pensarci proprio. Però magari un collegio di ragionamento come facciamo di solito alla mercoledì può essere utile per prendere delle decisioni. Vi mando un abbraccio e grazie per la compagnia e per la visione.